Questa è la storia della mia vita che ho fatto nei 60 anni, però negli ultimi 40 anni abbiamo rivoluzionato la bicicletta. Con amore, con passione si fa la storia. Quindi per dire e fare non c'è di mezzo il mare, ma c'è di mezzo il saper fare. Io ho sempre fatto più l'amore e sono qua a presentare quello che ho fatto nella vita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.